Questo video è dedicato a coloro che si affacciano nel mondo del disegno, ma anche a coloro che disegnano da un po' ma non sono riusciti a trovare quella sicurezza, perché hanno focalizzato la loro attenzione da un'altra parte invece che focalizzarla sul segno. Cosa vuol dire focalizzato l'attenzione da un'altra parte? Focalizzato l'attenzione sul modello, sulla cosa da riprodurre nel foglio. Invece è fondamentale per il disegnatore non tanto sapere cosa riprodurre sul foglio, ma sapere come riprodurla. E' qua che questo video che io faccio e che vi propongo ha la possibilità di poter spiegare un poco come iniziare un approccio diverso al disegno, partendo soprattutto dal come noi possiamo fare un segno grafico sul foglio. Questo esercizio, che è un esercizio di attenzione, è un esercizio che deve essere svolto con costanza e con una certa frequenza, vi permetterà di avere, di sciogliere la mano e di avere un contatto con il vostro foglio tramite la matita che può essere molto costruttivo al fine di poter ricercare un vostro segno e quindi una vostra cifra stilistica. Naturalmente non è che dopo aver finito di eseguire questo disegno voi cambiate totalmente il vostro modo di disegnare, però è un inizio, un inizio importante che, se compreso fino in fondo, ci dà la possibilità di iniziare un percorso completamente diverso che parte dal segno per arrivare al modello. Quindi non mi resta altro che lasciarvi al video e spero che possa essere utile e formativo e vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di condividere il video nei vostri profili social e naturalmente commentate, come state facendo, sempre nella descrizione. Vi auguro un buon weekend a tutte e a tutti e buona visione. Quando si comincia a disegnare, a mettere la matita sul foglio, si tende a fare questo tipo di segni per fare una linea lunga. Molto spesso accade questo. In questo esercizio, non che sia sbagliato, però nell'esercizio che io vi propongo oggi vi chiederai di cercare di superare questo tipo di segno in questo modo, prendendo la matita e facendogli fare una piccola rotazione. Ovviamente noteremo subito, quando noi abbiamo la matita nelle mani e la spingiamo sul foglio di carta, quindi la premiamo, facciamo pressione sul foglio di carta, che possiamo ottenere un segno più o meno marcato. Ecco, questo segno più o meno marcato è interessante ed importante perché ci aiuta a governare la matita, a cercare di imprimere il segno che noi vogliamo e dare la pressione che noi desideriamo alla matita per fare un certo tipo di segno e quindi con questo tipo di esercizio io vi esorto a premere la matita in modo tale da o all'inizio o alla fine fare una specie di sfumatura lineare. vedete che io premo la matita all'inizio e poi la lascio andare alla fine o magari viceversa. Ecco, facendo questo esercizio noi abbiamo la possibilità di incrementare la nostra dimestichezza con il mezzo. è un esercizio semplice, che pare semplice, però vi aiuta a scoprire molto, perché quando io ad esempio sono disciplinato a dover fare un esercizio di questo tipo mentre lo vado facendo, cerco di farlo nel miglior modo possibile per rendere questo tipo di effetto, chiamiamolo così, ma nel mentre che io lo faccio acquisisco e sento quella dimensione particolare e di concentrazione che ha il mio cervello con la mano e l'occhio che guida la mano nel foglio. Non è così scontato e che non è così semplice come potrebbe sembrare, perché disciplinarsi in un esercizio facendo un segno così apparentemente semplice, noi abbiamo la possibilità di avere dimestichezza con il segno senza avere il focus sull'oggetto che dobbiamo riprodurre e quindi sull'immagine che noi dobbiamo riprodurre, perché questa è una cosa che verrà conseguentemente e cioè quando voi farete questi tipi di esercizi, che vi prego di provare a farli e poi mi direte se questo cambia poi il vostro approccio col modo di interpretare l'oggetto che avete davanti. Dicevo, quando voi dopo aver fatto questi esercizi ritornate sul modello, vi accorgerete che avete la possibilità di essere un poco più sicuri e quindi di cercare di trattare diversamente il segno. Quindi calchiamo la matita e la rilasciamo più leggera al termine, oppure iniziamo in maniera leggera e poi calchiamo fino ad arrivare al punto di massima di massima pressione verso la fine. Leggera all'inizio e calcata alla fine. Possiamo fare anche calcato all'inizio e leggero alla fine. Ecco, questa qui è praticamente lo sviluppo di questo esercizio e naturalmente noi possiamo fare questo esercizio con qualsiasi tipo di matita, quindi dalla H alla 2B alla 8B, come ci pare e naturalmente facendo questo esercizio e continuandolo a fare e riempendo di righe fatte in questo modo la parte che noi abbiamo fatto precedentemente, possiamo anche prendere l'occasione per fare delle linee cercando di non toccare quelle eseguite precedentemente. Quindi tutti gli esercizi possono essere utili e tutte le difficoltà che voi riuscite a mettervi lungo il cammino non fanno altro che alimentare e che migliorare sempre il vostro segno. Non sono esercizi così tanto per fare, ma sono degli utensili, chiamiamoli così, che noi possiamo estrarre dal nostro cassetto ed usare alla bisogna. Cioè, quando noi ci troviamo davanti a un disegno, ci ricordiamo di quel tipo di movimento e vediamo che la risultanza nel foglio rispetto ai segni piccoli e magari indecisi che facevamo prima, ci danno un risultato migliore. Poi, da qui, da questi segni, noi cominciamo, e questo ve lo posso assicurare piano piano, a trovarlo il nostro segno. Quando si fa un disegno e si riporta un disegno sul foglio di carta, si deve sempre dare la possibilità alla nostra mano di andare a frugare nei cassetti dei nostri esercizi e della nostra memoria dove troveremo tutte le nostre esperienze e di queste esperienze prenderne una parte ed utilizzarla nel lavoro che stiamo facendo. Quindi possiamo farlo questo esercizio naturalmente con più o meno pressione, usando una linea più o meno marcata. Le declinazioni per questo esercizio, come state vedendo, sono molte e quindi questo ci lascia veramente spazio per riuscire ad avere un controllo, un controllo che può farci accorgere di una cosa sostanziale e fondamentale, che il volume della linea può definire anche il volume dell'oggetto. Ovvero, se una parte è in ombra e io calco il profilo molto di più di quella che è in luce, io posso già con il segno della matita creare il volume, ancora prima del tratteggio. Tratteggio che può essere formato da questi segni, ma poi vedremo piano piano in altri video quali possono essere le implicazioni anche di questi segni nel tratteggio. Ma una cosa fondamentale e importante, che questo video possa essere semplice e semplificare al massimo questo esercizio, per darvi modo di riflettere e di meditare su quanto io sto dicendo in questo momento, per riuscire a provarlo anche voi e a dirmi se poi la risultanza può essere stata utile. Ovviamente potete farlo anche dalla parte inversa, cioè con la curvatura che vada da sinistra verso destra in questo modo, non sempre con la curvatura come noi abbiamo fatto fino adesso. Quindi vedete, dalla leggera possiamo andare a calcare fino ad arrivare alla linea più spessa in questo modo. E questo esercizio poi lo vedremo adesso successivamente in maniera un pochino più strutturata, in modo tale che voi potete anche decidere quali siano in sequenza l'ordine dei segni che voi fate per riuscire a non confondervi mentre voi andate a compierlo questo esercizio. Quindi un video totalmente dedicato a questo tipo di indicazione grafica che può aiutarvi molto a liberarvi all'inizio del segno piccolo ed insicuro. Potete strutturarlo in questo modo. All'inizio premete e poi lasciate la parte più delicata. Partite di nuovo con la parte delicata e meno premuta e premete al termine. E qui il contrario. Leggero e poi premuto al termine. Premuto e poi leggero quando finite il segno. Ecco, in questo modo l'esercizio potete strutturarlo meglio e ovviamente confondervi meno sull'alternanza della della matita che deve essere premuta o meno sul foglio. Quando noi andremo a disegnare un contorno ovviamente non abbiamo all'inizio la convenienza a eccedere nel premere con la matita sul foglio. Naturalmente vi sarà sempre una differenza fra il tono leggero dell'inizio del segno e il tono più scuro del termine. Però naturalmente se noi facciamo un segno così scuro e soprattutto se lo facciamo con una mina che non è molto morbida poi in via di cancellazione potremo avere dei problemi. Ed ecco perché è bene fare questo tipo di esercizio magari più leggero quando voi fate un disegno. E questo lavoro che state facendo adesso vi aiuta a capire che tipo di modulazione e in che modo voi potete portare la matita con la mano in modo tale da regolare in maniera più più consona possibile la la pressione sul foglio di carta. Vi sono moltissime varianti. La variante principale è quella della morbidezza o meno della matita della grafite che voi state usando. naturalmente sappiamo che possiamo andare da un massimo di 12H a un massimo dall'altro lato di 12B. Quindi le strutture proprio a seconda della regilla della grafite che sono mescolate all'impasto per formare la mina possono dare. E quindi avete la possibilità di provare questi esercizi con i vari tipi di mine e anche provarli con tipi diversi di carte. Una carta più liscia, una carta più ruvida e poi potete tirare le vostre conclusioni alla fine di questo esercizio se può essere stato utile per riuscire a liberarvi come ho detto prima da una prima insicurezza nel tracciare un segno. Naturalmente questo esercizio va fatto in maniera sistematica e per abbastanza tempo ecco in modo tale da poter riuscire a vedere qualche risultato. Vedete anche da un punto di vista orizzontale quando se io premo o non premo la matita naturalmente ottengo dei risultati completamente diversi nel segno. Questo ci deve far meditare e ci deve aiutare a comprendere che tutto parte da qui, dal segno che noi mettiamo sul foglio di carta ancora prima che questi rappresenti qualcosa sul foglio di carta. Un saluto e un arrivederci a presto.